Buongiorno, bentornati e benvenuti a tutti voi cari amici. Oggi è venerdì, è la sesta volta che cerco di registrare questo video perché continuo a sbagliare, perché mi sono preparata, ho scritto i miei appunti, ma oggi faccio fatica a parlare e non è da me. Bene, allora, ho voluto fare questo video per raccontarvi quattro profumi che hanno tra di loro in comune il colore rosa. Due di questi profumi li ho acquistati in un negozio fisico dopo averli provati, un profumo mi è stato regalato e un profumo l'ho acquistato al buio dopo aver sentito la recensione di una cara amica, che poi vi dirò. Allora, il primo profumo che vi voglio raccontare è questo, Cuor di Petali della Elan. Mi ero già preparata, l'ho già arrivata a questo punto, quindi ricominciamo. Cuor di Petali della Elan. Questo è il profumo iconica. Poi ce ne sono altri due sempre di questa linea. Uno che è molto più delicato e che infatti ho sentito e non mi diceva assolutamente nulla e si chiama Infinita. E un altro invece che è molto più intenso e dà un colore molto più scuro di questo, anche la buggettina, che si chiama Inattesa, ma è molto forte, molto intenso, molto legnoso. E probabilmente avendolo acquistato a fine estate, questo profumo, in quel momento non mi era piaciuto più di tanto. Per onor di cronaca, dico che io non ho una stagionalità nei profumi. Li metto sempre, li faccio ruotare, i profumi da sciarpa li metto anche in primavera, i profumi estivi agrumati li metto anche in autunno e in inverno. Ci sono forse soltanto due o tre fragranze che sono davvero molto persistenti, molto forti, che io non uso in estate, ma per il resto i miei profumi appunto a rotazione entrano ed escono dall'armadio per essere indossati. Allora, io non amo particolarmente il profumo alla rosa e voi mi direte, ma perché ti sei comprata un profumo alla rosa? Questo è l'unico profumo che contiene proprio le note della rosa. È un profumo che ha come note di testa gemma e petali di rosa. Ah, aspetta, gemma, rifacciamo, non taglio eh ragazzi, non taglio. Gemma e petali di rosa, damascena, centifoglia, galica, moscata e tea. Quindi è veramente un connubio di fragranza alla rosa molto molto intenso. Note di cuore, mughetto, gelsomino, ciclamino, chiodi di garofano e peperoncino. Nota di fondo, legno di rose o di palissandro. Su Fragrantica ho trovato appunto palissandro che poi sono andata a informarmi è comunque legno alla rosa. E il muschio bianco. Allora, come vi dicevo, generalmente non acquisto profumi che contengano la fragranza alla rosa perché non mi piace tantissimo. A sensazione mi dà l'impressione di essere un profumo vecchio da nonna e quindi non lo vado proprio a ricercare. Questo profumo mi è piaciuto subito al primo spruzzo. Quando in erboristeria sono rimasta colpita proprio dalla bellissima grafica della scatola che purtroppo non ho più. E mi sono spruzzata questo profumo, mi è sembrato diverso dai soliti profumi alla rosa. Ci ho sentito dell'altro. Ho percepito subito il chiodo di garofano e il ciclamino. Il bouquet di rose all'inizio è davvero molto forte, molto preponderante, molto ricco. Ma ho avvertito subito il chiodo di garofano e soprattutto il ciclamino. Il chiodo di garofano regala un aroma speziato che rompe la monotonia del roseto e rende interessante e diverso questo profumo. Non è il classico profumo alla rosa e presumo che sia proprio per questo che mi piace così tanto. Il ciclamino poi lo percepisco quasi visivamente, con quel colore rosa intenso tendente al viola e poi alla fine rimane quel profumo legnoso di palissandro con una briosità che poi spunta piano piano del peperoncino. Dopo le prime due ore quasi il profumo alla rosa io non lo sento più. Sento molto il ciclamino e una punta di peperoncino molto molto frizzante che regala una briosità, una effervescenza quasi che rimane praticamente fino alla fine. Lo definirei, lo definirei, scusate, un profumo d'altri tempi, nel senso più elegante del termine. Un profumo bon ton, perfetto per le ragazze che fanno l'ingresso in società, se c'è ancora questa cosa o comunque magari per un certo tipo di ceto sociale c'è ancora. Un fiorito ma non troppo, sobrio, leggero, anche se molto profumato che soprattutto alla fine si percepisce ma non è più così intenso e quindi non ti stanca. Come termine per definire questo profumo io ho trovato il termine, l'aggettivo gentile, un profumo gentile. L'immagine, sapete che a me piace poi associare delle immagini che mi riportano un po' a questo profumo, l'immagine che ho associato è quello di una donna o di una ragazza in un cottage inglese con un vestitino a fiori e che con eleganza al calar della sera passeggia nel suo roseto e si china sui boccioli di rosa per assaporarne la fragranza. La sua durata sulla mia pelle è media, allora per me è una durata media sulle 3-4 ore. Nelle prime due ore è molto intenso, molto fiorito e anche speziato. Poi si trasforma, si assesta sulla pelle, si sente quell'effervescenza del peperoncino e diventa più leggero. Non diventa però un profumo intimo, lo diventa dopo 10 ore perché chiaramente non ha questa durata, però le sue 4-5 ore le fa tranquillamente e lo si avverte, lo si sente nelle prime 3 in maniera abbastanza intensa e poi pian piano appunto si trasforma e si fonde con la pelle ed è buonissimo, cioè mamma mia, è veramente buono. Adesso spero di riuscire a montare tutti i pezzi dei video che ho fatto prima per arrivare a questo punto perché ci ho messo una vita per presentare il primo profumo. Speriamo vada meglio con gli altri. Secondo profumo, ah non vi ho detto cosa costa, ecco scusate, 50 ml io l'ho pagato 25 euro poi sapete che appunto in negozio il prezzo è leggermente più alto perché ci sono dei costi da sostenere, se poi li cercate comunque su internet tutti questi profumi li trovate anche a meno. Io vi consiglio sempre il sito Trova Prezzi che vi fa vedere dove il profumo o il cosmetico o qualsiasi altra cosa costi di meno. Questo profumo è profumo gelsomino indiano di erbolario. È un profumo che io non avrei mai comprato perché il gelsomino è una fragranza molto forte, molto fiorita, molto intensa e non è che mi piaccia tantissimo ma me lo hanno regalato per il mio compleanno e io pian piano ho cominciato ad usarlo. Qui su Fragrantica ci sono delle note in più, sul sito di erbolario c'erano veramente quattro note stremenzite, su Fragrantica adesso ve le leggo sono tantissime. Allora, viene definito una fragranza fiorita speziata e su questo sono d'accordo soprattutto sull'aggettivo speziato. Allora, le note del sito dell'erbolario sono Ilang Ilang, assoluto di gelsomino indiano, fava tonca e vaniglia, lacrime di benzoino e grani di carota. Su Fragrantica io ho trovato questa cosa. Allora, Ilang Ilang, mandarino, bergamotto, tè e limone, poi le note di cuore sono, queste erano le note di testa scusate, le note di cuore sono gelsomino indiano, noce moscata, gardenia e cannella, le note di base sono sandalo, benzoino, vaniglia, fava tonca, musco bianco e semi di carota. Io tutti questi non li ho sentiti, mi sono basata sulle note che ci dava comunque la casa madre. Premetto che, appunto, come vi ho detto prima, è un profumo che mi hanno regalato che io non avrei mai comprato se fossi andata in negozio e lo avessi annusato perché di erbolario ci sono delle fragranze che mi piacciono molto molto di più. Devo dire che però, io me l'hanno regalato due anni fa, essendo rimasto fermo un anno in cui io non l'ho proprio usato, l'anno scorso in inverno ho cominciato a usarlo e poi l'ho ricominciato a usare adesso in questo autunno e adesso mi sta piacendo. È anche vero che, appunto, si cambia, si diventa grandi anche sui gusti, si cambiano i gusti, una cosa che magari prima non ci piaceva, adesso ci piace e per fortuna, e viva Dio, che è così. Allora, è una fragranza che potrei definire quasi orientaleggiante. La resina di benzoino la fa da padrona. Leggo, ragazzi, perché io oggi ho, non so quante volte, rifatto questo video e a questo punto oggi devo avere dei problemi nel raccontarvi le cose, quindi se leggo mi limito un attimo. Allora, una fragranza, come vi dicevo, che secondo me è orientaleggiante. La resina di benzoino la fa da padrona. È molto intensa, molto intensa, e mixata con l'assoluto di gelsomino ne smorsa la dolcezza regalandogli un tocco resinoso, speziato, dolce ma non troppo, e molto, molto intenso. Perfetto per una giornata fredda, una giornata dove c'è la neve, è la neve che inizia a cadere e noi stiamo camminando su un sentiero che si inoltra in un bosco, dove il profumo sembra riscaldare l'atmosfera invernale avvolgendomi, avvolgendoci, avvolgendovi con una sensualità tutta sua. Le note di Langilang rafforzano ancora di più l'intensità del gelsomino e regalano a questo profumo una tenuta sulla pelle di tutto rispetto. Tra tutti i profumi è quello che questo mi dura tutto, tutto il giorno. Dopo le prime 2-3 ore, quando il profumo si assesta sulla pelle, si trasforma dal fiorito intenso, perché qui comunque il gelsomino lo sentite, cioè si sente veramente tanto, in uno speziato vanigliato che è molto molto piacevole. Ecco, diciamo quasi che mi piace di più dalle 3-4 ore in poi, dopo gli spruzzi che mi sono fatta alla mattina. La sua durata sulla mia pelle è molto lunga. Nelle prime 5-6 ore lo sento, lo sento proprio tanto, anche se non me lo avvicino, non me lo sono spruzzato. Adesso lo spruzziamo. Spruzziamo di qua. È veramente intenso. Intenso. E il gelsomino si sente parecchio. Come quando voi camminate in quei viali dove ci sono tutti questi cespuli di gelsomino fioriti, proprio nel momento della fioritura più intensa, che sembra quasi fastidioso. Anzi, per alcuni potrebbe anche essere fastidioso. È davvero un profumo molto intenso, molto invernale, molto caldo, avvolgente. Vi regala proprio quella sensazione di morbidezza, di una bella sciarpa che vi avvolge, che vi riscalda. In un inverno molto freddo, come vi ho detto prima, l'immagine appunto della neve, che stiamo camminando sulla neve, ci stiamo inoltrando in un bosco innevato. Ecco, questa è l'immagine che mi viene in mente di questo profumo. È davvero molto molto forte. E quindi, come vi dicevo, potrebbe non piacere a tutti, perché secondo me può provocare anche mal di testa. Infatti io questo profumo in estate non lo metto. Non lo metto perché sicuramente mi provocherebbe mal di testa. Ma adesso è molto molto piacevole. Quindi questo è gelsomino indiano, profumo di erbolario. Allora, questo è un 100 ml, e io l'ho pagato. Io l'ho pagato. Cioè, io l'ho pagato. Me l'hanno regalato, ma ho visto il prezzo ed è 34,90 euro. Io non so se ce la possiamo fare. Va bene. Continuo, ma non ho intenzione di rifarlo più. Cioè, oggi come va, va. Prendetemi ragazzi. Così, come ci sono alcune volte che non faccio fatica a fare i video, ci sono alcune volte che sembra che tutto si rivolti contro. Terzo profumo. Sta anche diventando buio. Tra un po' dobbiamo anche accendere la luce. Maria. Va bene. Terzo profumo. Sì, ve lo faccio vedere così com'è. È Boom Candyland Land di Jeanne Arte. Allora, 100 ml, comprato su un ottino, a 5,59 euro. Grazie alla mia amica fantastica, che è Debbie, del canale Debbie My Life. Se voi non la conoscete, vi invito a conoscerla, perché, perché io l'adoro. Cioè, è una donna splendida, ve l'ho già detto altre volte, è simpatica, ironica, ha tantissimi profumi. Mi, ho comprato, grazie a lei, grazie, non so se è grazie, oppure no, la maggior parte dei profumi che ho comprato al buio su un ottino e su altri siti. Mi trovo molto in sintonia come gusto, come naso profumoso. Non so se perché abbiamo più o meno la stessa età, se abbiamo vissuto un passato di profumi in comune. Comunque, davvero, poi vi metterò il suo riferimento nell'info box, come vi metterò il riferimento magari di altre amiche o di altri amici. che parlano di profumi molto meglio di me in questo momento, che è molto piacevole andare a conoscere e a scoprire. Allora, la storia del marchio di Jean Arthès ha inizio nel 1978 nella città francese di Grasse, che è la città famosissima per essere la culla mondiale della profumeria. La sua fondazione è merito di Bernard Perrin, che ha posto le basi di questa azienda di successo, che oggi vanta più di 100 profumi da uomo e da donna. Sono profumi tutti low cost, davvero, io ne ho comprati altri tre o quattro, mi piacciono tantissimo e questo per dire che comunque non è necessario spendere tantissimi soldi per avere una buona fragranza, ci si può anche guardare in giro e cercare appunto il profumo che ci piace anche a dei prezzi ovviamente abbordabili. Allora, come vedete il colore della boccetta sta virando al viola intenso. siamo partiti da un rosa, siamo arrivati a un rosa malva, vediamo se ce la facciamo, ora c'è questo viola, sono troppo belli da guardare insieme e poi arriveremo ad un viola più scuro. Allora, Boom Boom Candy Land di Jean Artès come ho detto è una fragranza del gruppo Floreale Fruttato Gourmand da donna. È stato lanciato sul mercato nel 2015 le note di testa sono latte, ribes, nero e mandarino le note di cuore sono toffi, caramello melone e fiore d'arancio le note di base sono zucchero filato vaniglia sandalo e muschio e anche qui per fortuna su Fragrantica le note sono le stesse e combaciano. Come vi dicevo un profumo scoperto grazie a Debbie che è stata la prima amica su YouTube che io ho seguito per i profumi e da lì è stato un disastro un disastro perché tutte le volte che lei raccontava un profumo io me lo segnavo perché voi dovete sapere che io quando guardo i video li guardo solo ed esclusivamente da PC perché vedo meglio e poi perché da parte apro un file e mi scrivo i profumi che vorrei comprare i profumi consigliati i siti e tutte queste cose qua prendo appunti come se fossi all'università ce la facciamo sta diventando troppo buio vabbè allora al primo spruzzo questo profumo vedete che ha proprio la forma di una bomba qui si stacca la mollettina e ce lo spruzziamo buonissimo allora io qui ci sento proprio il latte è un profumo lattonico il latte mischiato al ribes nero come se fosse un frappè avete in mente d'estate quando fate un frappè di gelato al latte e poi ci mettete i frutti di bosco è un mix molto molto dolce e poi dopo la prima mezz'oretta si sente la parte fruttata di queste note quindi il melone e il mandarino è un profumo fresco non troppo fresco quindi non lo definirei un profumo estivo ma come vi ho detto prima io non ho una stagionalità nella scelta dei profumi lo trovo che lo trovo adatto ecco adatto ad ogni stagione e alla fine quando c'è questa trasformazione alla fine quando diciamo si assesta sulla pelle voi sentite lo zucchero filato la vaniglia cioè esce proprio quel dolce che vi regala una cremosità ecco un profumo cremoso dolce cremoso grazie penso al latte allo zucchero filato al caramello tutte queste note si sentono e rimangono fino alla fine quelle che svaniscono dopo un po' sono i fruttati quindi il ribes nero il melone e il mandarino alla fine io non li sento più avverto però quella nota dolce di latte e di caramello e di vaniglia l'unica nota che io non percepisco è il il profumo di muschio quello proprio non lo sento cioè il mio naso non lo sente a cosa lo abbino che immagine do a questo profumo do lo vedo adatto ad una giornata all'aria aperta lo trovo adatto a una giornata a scuola in ufficio perché non è molto invadente si sente ma non dà fastidio ed è adatto a tutte le età alla ragazzina perché comunque è un profumo giocoso allegro fruttato e anche dolcino le ragazze piacciono i profumi dolci generalmente se dovessi appunto pensare ad un'immagine lo vedrei con una donna con un abbigliamento sportivo e sbarazzino una donna che non ha pensieri in quel momento che lo indossa in una giornata soleggiata ma non prettamente estiva per una passeggiata in campagna e che a rientro si prepara un buon tè e lo sorseggia nella sua veranda leggendo magari una rivista di moda una donna che trova il tempo di ritagliarsi dei momenti per potersi rilassare per potersi voler bene un profumo che mi piace davvero tanto e quindi ringrazio Debbie perché lei dà sempre degli ottimi consigli e che sto apprezzando davvero tantissimo in questa stagione che non è più calda che non è ancora fredda ma questo profumo è davvero molto molto buono mamma mia viene in mente la caramella una caramella quelle marroncine il toffee buonissimo veramente veramente buono adesso in questa volta interrompo perché accendo la luce perché stanno da qui in qua non mi vedete assolutamente dovrei stare così ma già sono brutta di mio quindi spengo aspettate il tempo di spegnere la telecamera ragazzi oggi è andata così ma è il bello della diretta è il bello di essere delle persone normali che a volte non ce la possono fare ho acceso la luce e da qui in avanti manca solo un profumo ragazzi manca solo un profumo portate pazienza che finiremo questo video mi spiace perché mi ero preparata così bene ma oggi io non lo so probabilmente sono stanca comunque spero di avervi fatto capire comunque le fragranze dei profumi allora ultimo come vedete abbiamo ancora una sfumatura più forte è frutto della passione di erbolario leggo fresco e seducente come i fiori della passiflora esotico e dolce come i suoi frutti il profumo frutto della passione aggiungerà fascino al fascino della femminilità più radiosa è un profumo fruttato fiorito femminile secondo me è fruttatissimo è buonissimo questo profumo allora le note che erbolario riporta sono petali di gelsomino frutto della passione polvere di iris e legno di cedro le note che ci sono su fragantica sono adesso ve le dico le note di testa sono rosa bergamotto ilang ilang mandarino verde e gelsomino le note di cuore sono passiflora frutto della passione ananas nettarina pesca cannella neroli o neroli non lo so pompelmo rosa mela paciuli e violaciocca rossa le note di base sono muschio di quercia legno di cashmere iris muschio bianco legno di cedro vaniglia sandalo e ambra io francamente non so dove abbiano preso tutte queste note però fragantica è un sito abbastanza serio penso io comunque serio probabilmente qualcuno ce li ha sentite insomma queste cose allora un profumo che mi è piaciuto al primo spruzzo ero da erbolario per comprare altre cose e poi ci ho comprato pure due profumi tre profumi forse quattro sì c'erano quei due piccolini il calendario per lucia dell'avvento e questo è l'altro dei legni fruttati allora lo trovo agrodolce fruttato energizzante questo è un profumo che mi regala allegria mi regala energia e mi regala gioia lo trovo effervescente come le bollicine di un buon prosecco sembra che l'abbia bevuto oggi il prosecco perché da quello che dico e da come l'ho detto la maracuia o la passiflora o frutto della passione è la stessa cosa regala un profumo fresco che mi dà una carica emotiva per iniziare bene la giornata un mix perfetto da indossare in ogni stagione io l'ho acquistato che era autunno sì perché era più o meno a ottobre quando le giornate sono ancora soleggiate e calde appena spruzzato regala una fragranza molto fresca cioè è fresco e molto giovanile è buonissimo tra tutti potrei dire che tra tutti questi quattro è il mio preferito ed è quello che indosso sicuramente molto spesso alla mattina per darmi quel tocco di energia quel tocco di gioia quel tocco di frizzantino che mi serve per partire questo è il profumo ideale quindi diciamo nelle prime nella prima ora prima ora e mezza non è un profumo che dura tantissimo ha questo mix molto gioioso molto frezzante molto fresco che sembra davvero che ci siano le bollicine del prosecco all'interno poi pian piano diventa un profumo più intimo dove si percepisce il gelsomino lì allora viene fuori io all'inizio ci percepisco proprio le le note fruttate che effettivamente nel sito di erbolario non ho trovato ci sento il pompelmo rosa la mela la pesca l'ananas tutti questi frutti che sono davvero molto freschi e regalano allegria regalano gioia e e rendono questo profumo frizzante poi pian piano quando si assesta allora escono anche le note fiorite quindi un profumo che diventa più morbido più rotondo più elegante ma non invasivo non persistente non fastidioso assolutamente assolutamente no il bello è che poi appunto non avendo una durata così pazzesca sulle tre ore al massimo quattro non di più su di me poi io quando arrivo a casa lo rinnovo e così diciamo è come se mi regalasse nuovamente energia briosità gioia quando lo uso principalmente il martedì quando devo andare a catechismo con le mie bestioline perché dopo una giornata faticosa di lavoro è faticoso io non sono molto portata per i bambini piccolini anche quando avevo i bambini piccoli la persona dedicata dopo un po' era Paolo perché io perdo subito la pazienza no? sono più adatta sono più adatta agli adolescenti alle ragazze un po' più grandi mi piace sentire le loro discussioni mi piace intervenire nelle discussioni mi piace discutere con loro quindi io quando devo andare martedì a fare catechismo un'ora con questi miei bambini tra una spruzzatina e ritorno alla giovincella di una volta non ho più 52 anni non sono più la loro nonna ma mi dà questa carica questa voglia di continuare ancora la giornata e a a ricaricare un po' le batterie ad avere forza per fare le nuove attività che mi stanno aspettando adesso a parte le battute io mi diverto un sacco con questi bambini però effettivamente ci vuole pazienza ci vuole anche non so come dire cioè la carica per essere energici ecco così allora concludo con l'immagine che mi regala questo profumo è una fragranza per me adatta ad un giorno feriale con una temperatura mite mi immagino di essere sulle colline di Montmartre dove ci sono tutte queste bancarelle dove ci sono questi artisti questi pittori e tra qui vedo una giovane donna con un pennello in mano che sorride ai passanti si intrattiene con loro chiacchiera con loro un artista giovane giovanile magari non giovane come età ma giovanile come spirito come presenza che ha un talento che vuole far scoprire questo talento con le sue creazioni ha un abito colorato molto originale un po' particolare dei capelli scomposti al vinto magari non appena uscita da un parrucchiere ma con uno con qualche ciocca che gli cade sul viso e indossa questo profumo inebriante e gioioso giocoso e frizzante proprio frizzante verso sera poi quando la gente comincia a scendere nella città di Parigi e il sole tramonta sulla collina la donna è stanca della giornata appena trascorsa e rimane comunque avvolta da questa fragranza che diventa più intima che diventa più fiorita che diventa più rotonda più cipriata ma molto molto leggera non infastidisce e si trova in un piccolo bistrò e così diciamo saluta la giornata con un bel bicchiere di vino rosso o perché no con un bel bicchiere di prosecco e dopo questa immagine poetica io davvero mi scuso per tutte le interruzioni che ho avuto ma se dovessi comunque rifare questo video probabilmente ci risarebbero ancora perché avevo tante cose da dire e poi sono sempre così mi sento sempre un po' messa alla prova perché io sono spontanea quindi forse lo scrivere mi mi blocca un attimino ma se non avessi scritto tutte queste sensazioni probabilmente le avrei dimenticate avrei fatto confusione già sono confusa di mio già questo video è stato veramente molto molto confuso di questo vi chiedo scusa spero comunque che abbiate potuto apprezzare il mio impegno e queste fragranze e se dovessi fare proprio una scaletta al primo posto ci metterei lui frutto della passione di Lerbo Rario al secondo posto ci metterei Boom di Jean Arte al terzo posto ci metterei Iconica di Ellen e al quarto posto ci metterei Gelsomino indiano di Erbolario sono comunque profumi che io utilizzo giornalmente sempre e che ciclicamente poi lascio magari a riposo per tre o quattro settimane perché ne provo degli altri li uso tutti li uso in qualsiasi stagione l'unico che io non utilizzo in estate è proprio questo perché per me è un po' too much bene ragazzi io qui vi saluto e vi lascio vi auguro un buon weekend spero che possiate rilassarvi che possiate riposarvi e ci vediamo al prossimo video se mai ne farò un altro ciao e grazie buon pomeriggio